Solo pochi giorni fa aveva ricevuto la cittadinanza onoraria della sua Teramo e anche se non era riuscito ad essere presente alla cerimonia, aveva provato grande gioia ed emozione. Marco Pannella, scomparso oggi a Roma all'età di 86 anni dopo una lunga malattia, era molto legato alla sua terra che l'anno scorso gli ha conferito la laurea honoris causa all'Università di Teramo. Capopartito, difensore degli emarginati, censore della partitocrazia, alfiere dei diritti individuali ed inventore della disobbedienza civile. Pannella non è mai stato banale nei modi e nel linguaggio, sia verbale che del corpo. Restano celebri i suoi scioperi della fame e della sete, le sue battaglie per l'aborto, per la legalizzazione delle droghe leggere, per il divorzio, battaglie portate avanti attraverso una straordinaria capacità oratoria che riusciva quasi ad ipnotizzare chi lo ascoltava. Pannella, una vita dedicata interamente alla sua creatura, il partito radicale. La sede di Torre Argentina diventa crocevia di giovani pronti ad andare in carcere per rinitenza la leva, di femministe, protoambientalisti, gay, coltivatori di cannabis. Pannella è stato un liberale, un crociano e un anticomunista, ma era anche un laico e un anticlericale, anche se per il suo impegno civile si è guadagnato l'apprezzamento di Papa Francesco, che gli telefonò durante uno dei suoi ultimi digiuni, cominciato quando era già stato colpito dalla malattia, con il pontefice che gli chiese di non andare fino in fondo. Negli ultimi anni è circolata l'idea di assegnargli il seggio di senatore a vita come riconoscimento alla lunga carriera politica. Lui era perplesso, ma in fondo lo avrebbe gadito.